Ehi, Ray, tu ci credi in Dio? Non ci hanno presentati. Io ci credo e adoro la classe di Gesù, sai. La copertura è fatta di una lega di magnesio e tungsteno. Cos'è che ti preoccupa tanto? Questi sono i disegni della struttura in ferro dell'edificio dove sta Dana Barrett. Sono molto, molto strani. Ehi, Ray, ti ricordi qualcosa della Bibbia riguardo agli ultimi giorni quando i defunti escono dalle fosse? Io ricordo l'Apocalisse, 7-12. E io vidi, quando si aprì il sesto sigillo, io vidi che si fece un gran terremoto e il sole si fece nero come un cilicio di crine. E la luna si fece come sangue. E gli oceani bollirono e le stelle cadero. Il giorno del giudizio. Il giorno del giudizio. Ogni antica religione ha il suo mito riguardo alla fine del mondo. Mito? Lei a te non ha mai sfiorato l'idea che forse il motivo per cui noi siamo tanto presi è perché i defunti sono già usciti dalle loro fosse. Sentiamo un po' di musica? Sì. Sì. Sì.